che cazzo di squadra è questa qua io non c'entrò mai in questa squadra a parte che io adesso ho cominciato con questa squadra con il palermo il mio obiettivo adesso è terminare la stagione con il palermo e vingere la serie b siamo almeno quattro punti ce la possiamo ancora fare anche le partite sono tante ancora da fare siamo 0 a 0 contro il ternano possiamo ancora farcela vingere se riuscirà a fare la differenza libera male sul traversone occhio protegge spedito ancora e non possiamo fare niente però così ma dai però dove c'ero io davanti vabbè perché ripartono questi fanno a me non mi piace questa situazione non mi piace vai ad attaccare va a difendere volevo dire ho visto che era solo io l'ho visto cosa fanno queste cose non le posso proprio vedere però ci hanno trovato per fortuna abbiamo ribattuto il loro tiro e adesso questa è buona questa è buona questa è buona forse dai dai che questo è buono posso provare forse ci posso provare da qui anche va bene perché era presa e solo ci puoi trovare dai ok l'ho presa ok l'ho presa dai 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 stiamo ad attaccare guardami qua sono solo guardami qua guardami qua ho fatto a parare io ero solo lì potevo fare gol ehi ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta è impossibile che non segnali delle condizioni per forza dovevo fare il posto ok abbiamo recuperato il pallone vai ripartiamo ancora in due piedi quello è solo però ok 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 adesso ce l'abbiamo noi la palla ce l'abbiamo noi la palla ce l'abbiamo noi la palla possiamo trovarci e ce l'ha parata recuperate sta palla per favore recuperatela recuperatela non potete passare non potete passare perché alla fine non potete passare ok ok forse ce la faccio forse ce la forse ce la faccio forse ce la faccio c'è il tiro e la parata ancora me la parata forse ci provo di testa è troppo larga linea mantovani ragazzi linea mantovani i sapori per l'intimo dai che ci provo dai che ci provo adesso dai che ci provo adesso siediti come il cagnolino siediti come un cagnolino c'è il tiro è raddoppio 2 a 0 2 a 0 ragazzi questa volta non c'è più niente da fare ok così ok così dai non arriverò mai lì io me ne vado io me ne vado verso l'attacco attenzione forse possiamo fare anche la tripletta la prima della nostra carriera no quello era il semplice cross però vabbè è 3 a 0 un gol incredibile prima di testa della nostra carriera e l'abbiamo fatta offerta di trasferimento quadre che non accetteremo mai stiamo a fare il nostro allenamento siamo diventati i 73 di overall però vabbè ancora siamo molto lontani dall'essere forte contro il cosenzo ragazzi e poi si comincia finalmente una partita dove parto titolare la nostra prima partita da titolare qua possiamo fare il macchiello possiamo già cominciare così possiamo già cominciare con un attacco incredibile forse ce la facciamo fare un tiro un po' di effetto ce l'abbiamo fatta un gol incredibile un po' a giro quel tanto che basta per farlo entrare in posta 1 a 0 per noi incredibile perché guardate cosa vi state perdendo chi non la guarda peccato per il da 0 e azioni senza senso e anche errori da bestemmie anche bestemmie che fanno ridere battute mi sto perdendo di tutto battute non quelle di palla a volo ovviamente le freddure fredde freddissime che nessuno può sentire calcio d'angolo di testa testa di vincia se tu tieni la palla per te stiamo qui fino a domani mattina prendiamo dei lettini ci sbagliamo ci corichiamo e finiamo la fine della partita continuano a spingere spingi dai spingi spingi dai ok non ha spinto dai che ce la puoi fare a fare gol dai che ce la puoi fare che cosa possiamo fare adesso qui siamo chiusi siamo chiusi forse ci liberiamo forse ci liberiamo ok abbiamo preso un po' di incredibile dai che ce la puoi fare dai che ce la puoi fare ecco